Le marche rischiano di tornare in zona arancione. Il verdetto dovrebbe arrivare domani da Roma, ma preoccupano i parametri registrati e i contagi in crescita. Nell'ultima giornata sono tornati a superare quota 700 i casi di positività al coronavirus. Si tratta del secondo valore più alto rilevato da inizio anno, dopo quello del 5 gennaio scorso, ma con un record di nuove diagnosi nelle ultime 24 ore, che sono state 5.625 tra test antigenici e molecolari. In aumento anche i ricoveri tutti nei reparti non intensivi. Il governatore Francesco Acquaroli starebbe valutando l'ipotesi di chiudere le scuole. Intanto prosegue il ritmo serrato e la campagna di vaccinazione. In pochi giorni sono state somministrate oltre 11.000 dosi agli anziani over 80 e si sta predisponendo alla piattaforma per la prenotazione dei vaccini per le categorie cosiddette dei servizi essenziali, come gli insegnanti e le forze dell'ordine, a cui, secondo le indicazioni del Ministero e del Commissario, saranno riservate le dosi di AstraZeneca. Ieri ne sono arrivate 18.700 di vaccino Pfizer e 2.500 di Moderna, ma l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, si aspetta una riduzione futura delle fiale. Per questo è fondamentale correre ai ripari per velocizzare l'operazione di immunizzazione. Il piano B per Saltamartini consiste nel produrli direttamente in Italia e, perché no, anche nelle Marche. In contemporanea la macchina organizzativa messa in campo dalla Regione e dalle aree vaste, a Pesaro prosegue il secondo giro di screening agli studenti voluto dal Comune. E oggi sono state annunciate le date. Ecco il calendario. Si parte giovedì prossimo, la mattina, dalle 8.30 alle 13.30, sarà riservata agli istituti superiori. I pomeriggi del 4 e 11 marzo, dalle 14 alle 18.30, sarà la volta delle scuole medie. Quelle coinvolte sono la Dante Alighieri, Galileo Galilei, Don Gaudiano, Leopardi, Pirandello, Manzoni, Tonelli, Nuova Scuola e Olivieri. Potrà sottoporsi al tampone anche l'accompagnatore, cioè un familiare maggiorenne dell'alunno, oltre al personale docente e ata. Nel primo screening, hanno ricordato il sindaco Riccio e gli assessori della Dora e Ceccarelli, sono state tamponate 5.100 persone, di cui 16 risultate positive. Ma per aumentare l'efficacia del monitoraggio, hanno detto, bisogna renderlo periodico, almeno mensile. Nella prossima settimana verranno effettuati sopralluoghi.